ciao oggi cartoniamo io mi presento sono Michiel Alfio un artista autodidatta dove mi diletto veramente da sempre a cambiare solamente posizione gli oggetti perché abbiamo già tutto in mano nel senso che materiale di recupero è importante e non lo so forse magari quello che mi fa bene e fa bene è trasformarli ma e vedere altri oggetti e dandogli un'altra vita il mio percorso archistico è stato bello da sempre perché io non è che vivo di questo ma vivo in questo e perciò non ci sono tante spiegazioni respiro così e avrei piacere che anche chi viene dopo respirassimo a me il tema di oggi sarà il cartone il cartone con e carta naturalmente tante consistenze tanti tante possibilità e ai bambini spiegheremo il proprio la consistenza del cartone abbiamo del cartone spesso che ha una buona resistenza che possiamo usare per fare delle basi addirittura dei supporti abbiamo la carta semplice che dove possiamo strapparla tagliarla incollarla fare quello che vediamo abbiamo addirittura del cartone un po più spesso che possiamo addirittura piegarlo e fare dei cerchi e oggi andremo a costruire degli alberi inventeremo dei supporti che potrebbe essere questo come altri tipo di cartone dove costruiremo questi alberi che ne so un pino una vete un salice piangente facendo tipo così oppure facendo i rami incollati e ci divertiamo senza e la presentazione del materiale è talmente semplice che perché noi abbiamo la possibilità di usare quello della gente butta via e i bambini dovranno scoprire anzi devono scoprire anzi penso che lo sappiano già che se usiamo quello che ci abbiamo non non importa costruire altre cose perché come dico sempre noi spostiamo solo oggetti sul pianeta non crediamo nulla non 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 da noi non non ah ma no non non ma Grazie a tutti.